e bella raga qui è zombie no scherzo e bella zombie qui è deadgamer e oggi siamo nel secondo non mi ricordo bene comunque un video il video di questo canale alla fine e oggi allora intanto qua dietro raga non si sente niente non si sente niente io siamo qua col royal gamer dammi la mano e io non ci sento niente ora il mio tre penso di donna scherzo vabbè allora cosa dobbiamo fare era un po di catteggio e ho diviso ho diviso e comunque voglio dire una cosa importantissima sul mio canale oggi faremo la gara degli spinner vero sul suo canale appunto sul suo di canale però no sul mio perché io e questo qua mi sa che il secondo video ok perfetto ora non si respira non si respira vedete che ci sono dei buchetti piccolissimi proprio grazie grazie vabbè qua si conclude il video spero che vi sia piaciuto è durato veramente pochissimo però però spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel mi piace dovete distruggere il tasto di mi piace non lo voglio vedere più voglio solamente il tasto like proprio il pollicione proprio su iscrivetevi al suo canale e da me e da dead gamer e royale è tutto bella ragazzi grazie a tutti